Signor Sindaco, soddisfatto di quello che ha detto il Signor Ministro? Sì, molto soddisfatto, in particolar modo perché sono state accolte quelle richieste che è tempo che portiamo avanti e che facciamo. Secondo noi era la soluzione migliore, quella che poi hanno accolto e intraprenderanno nei prossimi giorni. Quindi una gestione già a monte, una chiusura del centro perché a questo punto non c'è più una necessità e insomma un'attenzione diversa della frontiera. Lei oggi non era al centro ad accogliere il Ministro per protesta, l'ha scritto chiaramente sul suo profilo pubblico di Facebook, perché il centro non era quello di stamattina, nei giorni scorsi? Il centro non era quello di stamattina, non è stata insomma una boutade perché nel momento in cui il centro verrà chiuso a questo punto va bene così. L'abbiamo visto, abbiamo visto qualcosa di diverso, il tema, il dato fondamentale è che il centro verrà chiuso e Ventimiglia tornerà a vivere una vita diversa. Un incontro positivo allora, signor Sindaco? Un incontro positivo, una risoluzione che voglio sottolineare è stata ripetuta più volte, e nasce anche da alcune proposte, il Ministro l'ha detto, c'è un'attenzione diversa verso le frontiere, speriamo non sia solo su Ventimiglia come non sarà, ricordiamoci anche degli altri vali che ricordiamoci di Lampedusa, quindi insomma un approccio diverso fa ben sperare. Per terminare si sente di promettere un'estate più tranquilla dell'anno scorso ai suoi concittadini? L'ha promesso adesso il Ministro Affano, quindi voglio dire, vi auguro di sì. Sul tema dei minori non accompagnati avete trovato una soluzione? Sul tema dei minori non accompagnati, visto il dato riportato oggi dal Ministro, voglio dire anche quello sarà un tema affrontato in un altro modo. Allora, vediamo come si modificherà il dispositivo, poi faremo qualche riflessione, però mi sembra che ci siano oggi le condizioni diverse per poter andare avanti. Buona vittoria di Gioculano, quella di oggi. Buona vittoria della città di Ventimiglia. Grazie. 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 Grazie.